Marie Curie nacque il 7 novembre 1867 a Varsavia e morì il 4 luglio 1934 a Passine e il sanatorio di Sancellemod. Questa donna è una fisica e chimica polacca. Nel 1903 ricevette il premio Nobel e lo condivise con il marito Pierre Curie e Henry Becquerel. Scienziata d'eccezione, è la prima donna ad aver ricevuto il premio Nobel e, ad oggi, l'unica donna ad averne ricevuto due. Rimane l'unica persona ad essere stata premiata in due campi scientifici separati. È anche la prima donna a vincere, con suo marito, la medaglia d'Eivi nel 1903 per il suo lavoro sul radio. Parte dei suoi quaderni di esperienza sono conservati presso la Biblioteca Nazionale di Francia e accessibili in forma digitalizzata. Ha avuto due figli tra cui Curie e Renjolio Curie. Marie Curie partì per Parigi nel 1891, dove fu alloggiata dalla sorella e dal cognato, Irudalman, non lontano dalla gare du Nord. Il 3 novembre 1891 si iscrive agli studi di fisica presso la Facoltà di Scienze di Parigi. Tra i 776 studenti della Facoltà di Scienze nel gennaio 1895, ci sono solo 27 donne, di cui solo 7 sono stranieri, mentre in medicina la maggior parte degli studenti sono stranieri. Marie Curie soffre di un'eccessiva esposizione agli elementi radioattivi che studia dal 1898, in particolare negli occhi e nelle orecchie 45. Fin dall'inizio degli anni 20, era indebolita e pensava che il radio, al quale dedicò gran parte della sua ricerca, potesse avere qualche responsabilità per i suoi problemi di salute 45. Rimane comunque a capo del suo istituto, in particolare nello sviluppo di approcci terapeutici per combattere il cancro grazie alle radiazioni prodotte dal radio. Ha una leucemia indotta da radiazioni che ha scatenato l'anemia a plastica. Il 29 giugno 1934 si ricò al sanatorio Sancelle Moz di Pasì, Alta Savoia, per essere ricoverato in ospedale. Morì lì il 4 luglio, ha l'età di 66 anni, nella stanza 424. Ecco il premio Nobel ottenuto da Marie Curie che condivide con la sua Marie. Grazie. 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 Grazie.